Secondo il magazine britannico Hit, Jennifer Aniston avrebbe rifiutato un invito a cena da parte di Brad Pitt. Se questo fosse vero, sarebbe un po' una sorta di rivincita per la Aniston nei confronti dell'ex marito. Lo ricordiamo, i due si erano sposati nel 2000 e hanno divorziato 5 anni dopo a causa della relazione e della storia d'amore fra Brad Pitt e Angelina Jolie. Dove sarebbe avvenuto questo invito a cena? Entrambi gli attori si trovavano a Londra. Brad Pitt era lì per presentare il suo film Allied, Un amore nell'ombra, mentre Jennifer Aniston era lì per presentare il film La festa prima delle feste. Pare che Brad Pitt abbia saputo appunto che c'era l'ex moglie e abbia deciso di invitarla a cena fuori. Per tutta risposta lui si sarebbe sentito dire un cortese massecco no, grazie. Se così fosse, questo no, è un po' una sorta di rivincita da parte di Jennifer Aniston nei confronti di Brad Pitt e comunque il mondo femminile ha dato tutto il suo sostegno alla bella Jennifer. Brad Pitt ultimamente è tornato agli onori della cronaca rosa purtroppo per la separazione, il divorzio da Angelina Jolie e per i presunti maltrattamenti sui loro figli. E su questo sta indagando l'FBI. D'altra parte Jennifer Aniston è felicemente sposata con Justin Theroux e pare proprio che lei abbia detto di no all'invito a cena dell'ex marito per non incrinare questo bellissimo nuovo rapporto. Sarà così? Chi lo sa?